C'è scena 8, prima 34-48. Continuano a Monte Rosso Calabro, nel Vibonese, le riprese del Sentiero, cortometraggio diretto al regista Gianfranco Confessore nell'ambito del festival cinematografico L'Arte del Corto, giunto alla quinta edizione, promosso dall'amministrazione comunale, guidata da Antonio Giacomo Lampasi. Il tutto con l'intento di sostenere e valorizzare i territori e i talenti locali. L'evento culturale è diventato punto di riferimento in Calabria per gli addetti ai lavori e per tutti gli amanti del cinema. Questo corto, dalla durata di circa 10 minuti, racconta un po' la storia interpersonale della protagonista. Tramite l'escamotage, diciamo, antropologico del terremoto e della leggenda della Madonna che salvò la bimba qui di Monte Rosso, si vuole raccontare la storia di questo personaggio, Giulia, che vive questa sua ricerca personale fino ad arrivare a scoprire una sua verità. La produzione esecutiva del cortometraggio è curata da Pasquale Arnone. Il cast presenta nomi del calibro di Antonio Tallura, Marcello Arnone, Antonello Lombardo, Federica Montanelli e Daniela Fazzolari. La meraviglia di scoprire in questo luogo, a Monte Rosso, un borgo così bello, così pulito, così curato, immerso in una natura così rigogliosa, è stato veramente emozionante. E' emozionante scoprire che ancora esistono paesi che andrebbero molto più valorizzati ma che sono veramente tenuti bene dai cittadini che la vivono, quindi è stato bellissimo davvero. Il sindaco Antonio Giacomo Lampasi ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa, per il primo cittadino, da diversi anni il festival, l'arte del corto e l'evento più importante delle preserre vibonesi. Questo progetto molto interessante, uno dei tre progetti poi naturalmente, è Sentelo, scritto da Gianfranco Confessore, ci ha cattolato subito e per la consistenza e la originalità della scrittura, ma soprattutto ci ha anche conquistato per questa originalità assoluta del progetto sposato dal comune di Monte Rosso, dal sindaco, che hanno avuto la brillantissima idea, secondo me, di poter veicolare il proprio comune o comunque una parte di questa parte della Canabria attraverso dei cortometraggi. Lei che ruolo recita nel film? Quello del sindaco, quindi assolutamente istituzionale, però un sindaco molto vicino alla gente, anche perché vive con i suoi concittadini questa strana situazione che si sta creando, quindi al di là della figura del sindaco, che lo è naturalmente, cerca di risolvere questo problema che si sta manifestando in tutta la popolazione, con i propri concittadini, quindi un sindaco molto alla mano.